Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Un saluto a coloro che interverranno a questo confronto di oggi e che siedono a questo tavolo di confronto su un tema così importante. Ringrazio i rappresentanti dell'ONG, non è la prima volta che il Movimento 5 Stelle pone l'accento sull'importanza della cooperazione internazionale e chiede di individuare un percorso che miri alla progressiva stabilizzazione delle aree di crisi. Nel 2014, quattro anni fa, uno dei primi atti presentati dal Movimento 5 Stelle è stata una proposta di legge per una riforma della disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, a prima firma della collega Maria De Raspadoni. Un atto che puntava a contrastare un costante decremento degli investimenti in cooperazione, che ha messo in discussione anche la leadership che il nostro Paese aveva in alcune aree del mondo. Ma soprattutto un atto che seguiva e che segue una linea specifica e coerente, intrapresa ancora prima che il Movimento 5 Stelle entrasse in Parlamento, che ripercorre i nostri valori fondativi, il nostro spirito, nonché i principi che consideriamo inderogabili come il rispetto dei diritti umani. A questa proposta di riforma, nata con la convinzione innanzitutto che solo un maggior incremento dei fondi da destinare alla cooperazione potesse incidere positivamente sulla stabilità e la crescita di alcuni Paesi messi in ginocchio dalle guerre, carestie o regimi sanguinari, negli anni abbiamo affiancato battaglie politiche che riteniamo significative. Mi riferisco alla richiesta di ritirare il nostro contingente militare in Afghanistan. Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese e si è assunta la responsabilità di dire che la cosiddetta democrazia delle bombe è fallimentare oltre che inumana. In questi anni abbiamo presentato atti parlamentari a tutela della popolazione iemenita da mesi sotto il fuoco dei bombardamenti sauditi e siamo stati l'unica forza politica che ha chiesto al proprio Governo di rispettare il diritto interno e le convenzioni internazionali, bloccando immediatamente l'exporto di armamenti a Paesi coinvolti in conflitti armati. Tra 90 giorni il Movimento 5 Stelle potrebbe ricevere l'incarico di Governo dal Presidente della Repubblica. Quello che abbiamo proposto in questi anni lo assumiamo come impegno di Governo e diventerà realtà. In Parlamento ci siamo fortemente impegnati per l'istituzione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, istituita presso il Ministero degli Affari Esteri ma mai decollata veramente. Ecco, quell'Agenzia diventerà il perno della nostra politica estera. La cooperazione sarà la lingua ufficiale della nostra politica estera. Senza traumi con gli attuali Stati alleati, senza scontri diplomatici, io credo che il linguaggio della cooperazione serva ad unire e non a dividere. Serva a trovare i nuovi popoli, i nostri alleati, e non a perderne i vecchi. La difesa dei diritti umani, il rispetto dei popoli e il riputio della guerra, come s'ancito dall'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale, deve essere nel DNA del nostro Governo. È alla base del nostro progetto di Governo. In questo senso il lavoro portato avanti dall'ONG è un lavoro che rispettiamo e incoraggiamo. E non permetteremo però che l'oro malgrado si sostituisca ad uno Stato incapace di dare risposte concrete. Lo Stato si è deresponsabilizzato delegando alle ONG un impegno eccezionale, non offrendo allo stesso tempo gli strumenti necessari ad operare in modo efficace. In alcuni casi ha fatto anche nascere d'improvviso alcune ONG, a volte malattrezzate e poco trasparenti, realtà che hanno danneggiato la reputazione della maggioranza delle ONG strutturate e storiche. Un Paese come l'Italia ha il dovere di garantire alle persone che vivono sul nostro territorio il rispetto dei diritti e la loro dignità di vita. E allo stesso tempo non deve rinunciare a svolgere un ruolo fondamentale nello scenario internazionale. Per questo serve un modello di approccio differente da parte dello Stato italiano negli scenari di crisi, senza ipocrisia. Non deve essere più uno Stato ipocrita quello che interviene negli scenari di crisi. Lo Stato deve essere capofila in questi scenari per cooperazione allo sviluppo e solidarietà. Non solo attraverso le politiche dei Ministeri e del Parlamento, ma anche e soprattutto attraverso le politiche delle sue partecipate di Stato, quando si agisce con quelle partecipate in regioni del mondo che stanno attraversando difficoltà e sono scenari di crisi. Per cambiare approccio dovremo ispirare la nostra azione a quella delle migliori organizzazioni non governative. E spero che questo tavolo possa essere prima di tutto l'occasione per immaginare un modello diverso di Stato quando interviene o non interviene negli scenari di crisi. E spero che la collaborazione con le ONG possa esserci anche nel caso di segnalazioni su comportamenti illeciti o poco trasparenti in questo settore. Nel ringraziarvi per la partecipazione a questa opportunità di confronto, vi auguro buon lavoro. Grazie.